Dal mare ai monti. Siamo qui giunti a Pian delle Fate, poco prima di una esposizione al bacino del Brasimone. A 750 metri sul livello del mare sorge la colonia montana di Castiglione dei Pepoli, che accoglie 120 ragazzi ogni turno. Mentre i ragazzi si avvicinano di buon passo al lago artificiale meta della loro gita, ci pare utile ricordare che ad essi provvede per tutti i disegni di vere e proprie equipi specialiti. Una direttore, una medico-pediaca, un'assistenza sanitaria, un'infermiera e altre 15 persone tra insegnanti e addetti di servizio. La vista del suggestivo panorama non placa tuttavia la curiosità dei giovani squelzionisti. Qui addirittura si improvvisano giornalisti. È intervistato un piccolo artigiano testile della montagna. Vogliono davvero sapere tutto. Quanto guadagna? Mi sa dire quante ore lavora? Bene, accomodatevi, dice l'artigiano. Accomodatevi nella mia bottega. La visita è alla bottega e ai campi è finita. Zaino in spalla e giù di volare. Grazie. Grazie.